Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo vlog. Oggi 5 gennaio 2022, iniziamo questo nuovo anno con questo video. Ma prima voglio darmi una piccola sistemata, vorrei un po' truccarmi. Ho fatto lo shampoo, ho messo solo un po' di olio per i capelli, questo del Lavon. In modo tale da ristrutturarli un po' e sto usando un nuovo prodotto. Ero indecisa tra tutte le maschere che ci sono in commercio, ma alla fine ho deciso di scegliere questo. Della linea Frank Provo Paris, un bassamo professionale, expert reparation. E' un balsamo per i capelli danneggiati, fragili, che si spezzano facilmente. E quindi senza silicone, per un tocco naturale. Testato e approvato da Frank Provo. Con olio di jojoba, fibra capillare riparata e rinforzata, capelli rovinati e fragile. 750 ml, l'ho pagato 4,59 euro all'incirca. Quindi spero che i miei capelli veramente possano ripararsi. Ecco, sto indossando una maglietta di Shane, ve la ricordate. L'unica modifica che ho fatto è stato il collo, era troppo ingollata. Così bene o male il mio collo respira. E allora vado a truccarmi velocemente. Così vi mostro il resto del video. 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 Bene, questo è il trucco che ho fatto. Veloce, leggero. E adesso andiamo sull'argomento di questo video. Sottofondo sentirete Willy. L'ho acquistata ieri, sono stata al Lupin e non pensavo che avrei trovato una cosa simile. Me ne sono innamorata all'istante. E ho deciso di acquistarla. È un colore che io amo e soprattutto è qualcosa che io amo. E così non l'ho mai avuto. Ho avuto sempre quelle classiche, quelle normali. Ma adesso voglio presentarvi la mia nuova agenda. Il mio nuovo planner è grandissimo. 2021-2022 è un genere totalmente diverso. Era 20 euro, 19,90, ma c'era lo scondo. Io non lo sapevo. L'avrei acquistata lo stesso, la metà. E adesso leggermente ve la mostro. Perché poi vedrete un nuovo video dove io vado ad organizzarla insieme a voi. Allora, è un rosa vellutato. Che meraviglia. E così, con gli anellini. Qui ci sono dei sticker. Ve la mostro in un altro modo così ve la vedrete meglio. Eccola qui. Ve la mostro più che posso. Allora, nella prima pagina ci sono alcuni sticker. Da mettere nell'agenda. E poi iniziamo 18 mesi planner agenda. Planner agenda. Qui metteremo i nostri dati. E poi c'è questo. Je t'adore. Sono tutti i cartongini. Il calendario 2021. Il calendario 2022. E poi il calendario 2023. La cosa bella è che qui ci sono tutte le targhette già inserite. Qui c'è una pagina per mettere alcune note. E poi ogni mese c'è una scritta. Se la vi. Adoro. Ecco. E iniziamo. Con speciale eventi. Poi qui ci sono sempre le note. Altri speciali eventi. Note. Ogni cartongino ha la sua frase. Qui sono tutte foglie per le note. Per gli appunti o quant'altro. Poesie, frasi, obiettivi. E poi iniziamo con 2021. Perché appunto è 2021-2022. Questo è tutto agosto. Settembre. Ancora è nuovo ragazzi. Quindi sentirete il rumore appunto perché è nuovo. Questo è ottobre. Eccolo qui. Che poi si presenta così. Anche gli altri sono così. Quindi sentirete il rumore delle pagine ancora appunto. Staccate perché l'ho comprato appunto ieri. E ve la sto mostrando subito. Guardate che meraviglia. Sabato, domenica. Ogni pagina è così. Poi c'è novembre. Vedete? Prima si presenta così. Poi si presenta così. Per appuntamenti e note varie. E poi si presenta giorno per giorno. Andiamo a dicembre. Ecco. E poi finiamo con... No. Iniziamo con gennaio. Questa è la mia preferita. Questa scritta, questo disegno, tutto. Quindi iniziamo gennaio. Febbraio. Perché febbraio si sa è il mese dell'amore. E poi qui c'è marzo. Vedete che è fatta bella. È strutturata in un modo meraviglioso. Aprile. Qui c'è maggio. Poi arriva giugno. Ho paura che si strappi. Però dobbiamo staccarli. Ecco. E così via. Fino ad arrivare a dicembre 2022. Cioè. È meraviglioso. Non ho mai avuto un'agenda così. E quest'anno ho deciso appunto di averla. Finito dicembre 2022. La cosa bella è che abbiamo gennaio 2023. Quindi. Voglio dire. È abbastanza. E questa era la nostra nuova agenda. Il prossimo video la organizzeremo insieme. Quindi questo dovrò toglierlo. Oppure lo lascio. Non lo so. Vediamo. È bella. Faccio cosa. Vedete. È un libro. Un libro. Il sacro libro. Ecco. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che organizzeremo molto presto la nostra agenda insieme. Non vedo l'ora di iniziarla. Come sempre io vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Lasciare un like. Un commento. E se vi fa piacere. Attivate la campanella che c'è in basso a destra. Così verrete avvisati ogni volta che esce un mio video. Vi arriverà la notifica. Io vi abbraccio. E noi come sempre ci vediamo al prossimo vlog. Da. Va bene. L'84. L'84. E noi come sempre ci vediamo al prossimo vlog.